Questa sera ci ha deliziato con un menù davvero particolare, nonché titolare del ristorante Lumbria in Co. Ma che cosa hai presentato all'interno delle 100 serate d'Acqua Sparta? Un menù insomma ispirato ai prodotti del territorio, caratterizzato insomma dall'uso del vino in alcuni piatti, tipo anche l'antipasto per esempio marinato, era un girello di chianina marinato nel sagrantino e condito con vinaigretta al peperosa. Poi seguiva un fior di lasagna con asparagi selvatici, perline di pere e pecorino erborinato. E poi come secondo abbiamo fatto un osso buco di chianina con baccelli di fave e un tortino di patate al tartufo. Fuori gara il dolce? Il dolce è un bicchiere mimosa. Che cosa hanno di particolare questi piatti? I piatti hanno di particolare che sono veramente tanto digeribili, perché uso tecniche di cottura poco invasive, bassa temperatura e quasi niente soffritto e quindi ovviamente è materia prima pregiata che è fondamentale. Quanto tempo ci hai impiegato a fare quella forma del fiore della lasagna che era qualcosa di meraviglioso, ma credo ti sia costato un po' di tempo per farlo. 20 secondi. Grazie. 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 Grazie.